Se vi chiedessi una delle attività principali della vita di Leonardo da Vinci, vi rispondereste la pittura. Io invece vi risponderei creare scenografie di spettacoli teatrali. E sapevate che è stato Leonardo a concepire la prima idea di telaio meccanico ben prima della rivoluzione industriale? Se volete scoprire di più su queste e altre curiosità su Leonardo, non perdetevi il quarto episodio del documentario Tra Tecnica e Arte, realizzato da Pilso Vistori in collaborazione con il Museo Scienza e Tecnologia di Milano, all'interno delle magnifiche gallerie Leonardo. Scopriremo ancora di più sul legame tra Leonardo e la città di Milano, città industriale per eccellenza, e vedremo alcuni esempi di prime macchine industriali da lui create, tra cui appunto un incredibile telaio meccanico. Appuntamento a sabato 4 novembre alle 16 su Instagram, Facebook, Youtube e TikTok. Non mancate, mi raccomando, a piccolo spoiler, sapevate che Leonardo era anche un cantautore?